Nel 2017 il reddito netto medio delle famiglie italiane si è attestato sui 31.393 euro annui, crescendo sia in termini nominali, più 2,6%, che in termini di potere d'acquisto, più 1,2%. Questi dati rilevati dall'Istat, secondo cui la disuguaglianza economica tra soggetti non si riduce, con il reddito delle famiglie più abbienti che continua ad essere più di sei volte quello delle famiglie più povere. Nel 2017 è diminuita la popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, con il dato che è sceso dal 28,9% al 27,3%, per una minore incidenza di situazioni di grave deprivazione materiale. Autostrade per l'Italia accelera sul piano di manutenzioni. La società pubblicherà un bando da circa 300 milioni per lavori da realizzare nel prossimo biennio. Inoltre chiederà autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affidare circa 200 milioni alla società collegata Pavimental. Grazie a questa iniziativa, Autostrade per l'Italia metterà in campo un'alteriore capacità realizzativa di circa 500 milioni complessivi, che consentirà di attivare cantieri di lavoro, in particolare in Liguria. Una lezione molto particolare, quella a cui hanno assistito gli studenti del secondo anno della Facoltà di Scienze Bancarie dell'Università Cattolica di Milano. In cattedra, infatti, è salito il presidente di Banca Mediolanum, Ennio Doris, invitato dall'Ateneo milanese per chiudere il corso di Diritto Europeo dell'Economia nell'ambito del ciclo di appuntamenti dal titolo Guardando al futuro, le banche italiane, l'Unione Europea e l'innovazione tecnologica. E proprio la sfida tecnologica è stato uno dei punti su cui Doris si è soffermato. Il settore bancario è in un momento di grande cambiamento, di rivoluzione vorrei dire. La tecnologia ha, come si dice, spazzato via un sistema che funzionava da più di cinque secoli. Ebbene, con la tecnologia oggi è possibile avere i servizi bancari in qualsiasi momento del giorno o della notte, in sette giorni alla settimana, tutti i giorni dell'anno. E questo ha cambiato radicalmente. Tecnologia, ma non solo. Tanti i temi di attualità toccati dal MES alla presidenza di Mario Draghi alla BCE fino ai tassi negativi sui conti correnti. Una discussione a tutto tondo nella consapevolezza dell'importanza di un'educazione finanziaria per i più giovani. L'ultima tappa del corso di diritto europeo dell'economia in cui i nostri studenti di scienze bancarie sono introdotti al tema delle banche e della disciplina delle banche in Europa con particolare attenzione alle implicazioni che la disciplina ha per l'operatività delle banche. In questo senso è un'educazione finanziaria di alto livello perché i nostri studenti sono quelli che poi nei prossimi anni andranno a lavorare e nel tempo a ricoprire ruoli di responsabilità all'interno delle istituzioni finanziarie sia italiane che europee.